Oggi volevo farvi vedere invece questo prodotto per la lavatrice. Sto per avviare una lavatrice e ci aggiungerò questo prodotto qua, che è un profumatore Chanticleer. Molto molto efficace, ne basta un tappino di queste dimensioni qua, aggiunto al bucato, per fare un profumo incredibile. Ora ovviamente questa è una cosa su cui vi dovete fidare perché non ve lo posso far sentire, ma è il secondo che compro e devo dire che è molto buono. Anche se è un po' a costosetto, però vale la pena perché dura abbastanza, dà una profumazione ancora più intensa dell'ammorbidente. Ci sono varie profumazioni, questa è un po' femminile perché è floreale, l'altra non mi ricordo com'era, qual era, insomma, mi sembra fosse azzurro. E forse era un po' più fresca, ma è passato un bel po' di tempo, quindi non me lo ricordo. E l'ho trovato da Tigotà e non mi ricordo esattamente il costo, ma fate conto, sui 6-7 euro, credo, per una confezione piccolina, però che dura a lungo. Io lo consiglio, a me piace molto. Io lo consiglio, a me piace molto.